Ma solo per darvi le idee, Unicredit sono 237 controllate, Intesa San Paolo 92, Monte Paschi di Siena 33, Banco Popolare 19, Ubi Banca 29, il Sole 24 Ore sta citando in questi giorni questo tipo di dinamiche. E quando mi si dice per esempio che la situazione è fantastica per le imprese italiane, guardate queste barre. Se guardiamo un'altra partita che sono i crediti deteriorati, i crediti deteriorati hanno quella dinamica lì, andiamo a vedere quelli che sono i margini rispetto alla clientela, vedete quanto hanno perso di margine di profitto le banche? Guardate che cosa è successo, questi sono gli utili netti delle banche dal 91 al 2014, lo vedete che è cambiato il mondo? È cambiato il mondo, cioè le banche da 4 anni a questa parte sono in perdita. Questo è il numero di sportelli bancari per 100.000 abitanti, cioè in tutta Europa dal 1993 al 2014 abbiamo preso 20 anni, le banche stanno riducendo il numero degli sportelli. Poi c'è un paese in cui, l'Italia, il numero degli sportelli aumenta a dismisura, guarda caso fino a che a un certo punto succede una crisi internazionale. Ma ci saranno ancora fra 10 anni 100, 200, 300 banche? No, io penso meno di 10, è un mercato che implode, un mercato che si chiude su se stesso.